Quando siamo giunti alla metà del calciomercato di gennaio in casa Avelina non si registrano scossoni o trattative addirittura d'arrivo. Si riflette su come rafforzare la rosa di mister Braglia con alcuni nomi sul taccuino e con pazienza soprattutto per determinati profili. Cominciando dall'interno, situazione d'Angelo, il centrocampista ha tante richieste dalla C, ma anche da qualche club di B come il Cosenza che aveva offerto contropartite tecniche non gradite da Braglia. Dunque il bandolero attende un incontro definitivo con la proprietà per capire quale sarà il suo futuro. La distanza per la firma c'è e andare avanti da separati in casa potrebbe essere un rischio tecnico con un calciatore scontento a disposizione. Senza trascurare il fatto che D'Angelo potrebbe già accordarsi con un altro club, si attendono sviluppi in tal senso. La stessa agente del centrocampista assiste anche Rizzo, lui in scadenza di contratto, come il bandolero con la voglia di tenerlo in bianco verde. Col terzino bisognerà ovviamente discutere del rinnovo per non perderlo a zero a giugno. Stesso discorso per Salvatore Aloi con il quale però un rinnovo sembra essere pista fredda al momento. Per quanto riguarda le uscite, Sbraga e Mignanelli sono in ottica Teramo ed in caso di partenza l'Avellino, almeno sulla sinistra, dovrà correre ai ripari per un vice Tito. In entrata ormai nota la voglia di portare il Pigno a un centro avanti, i nomi sono sempre gli stessi. Su Murano la concorrenza però è agguerrita, con Modena e in ultimo il Pescara, interessate. Iemmello invece sembra sparito al momento anche dai radar del Catanzaro, che forte dell'accordo non riesce però a chiudere definitivamente l'operazione.